Bene raga amici di LegaNerd, io sono Zat Kastel e vi do il benvenuto ad una nuova video recensione del Trono del Re qui sul canale YouTube di LegaNerd. L'opera di cui vi parlo oggi è Randaggi di Keigo Shinzo nell'edizione Collection Box. Boom! Allora, Randaggi è l'ultimo lavoro in ordine cronologico da arrivare in Italia di Keigo Shingo, un giovane mangaka che già si è fatto notare per alcune opere dalla spiccata sensibilità, ma che qui in Italia in effetti è ancora abbastanza poco conosciuto. Ci pensa a J-Pop, a portarci il solito Box Collection, come ormai tradizione, con l'intera opera in quattro volumi. Non sapevo esattamente cosa aspettarmi da quest'opera, un seinen manga abbastanza anche importante, ma sin dalle prime pagine sono rimasto decisamente molto impressionato dalla qualità e dalla profondità della narrazione. Conosceremo Yamada, un ispettore di polizia profondamente segnato dalla scomparsa della propria figlia in tenera età, un trauma dal quale praticamente non si è mai ripreso e che lo ha distrutto realmente. Scopriremo poi solo più avanti nell'opera i dettagli di quello che gli è accaduto. Ebbene, durante una retata in un centro massaggi, piuttosto rosco, Yamada e i suoi colleghi scoprono un giro di prostituzione minorile, decisamente vasto e anche organizzato. Ed in particolare alla sua attenzione si ferma su una ragazza, una 17enne di nome Shiori Umino, il cui viso è incredibilmente somigliante a quello della scomparsa figlia dell'ispettore. Shiori del canto suo nasconde una terribile verità. Si considera una sorta di randagia, vive come una randagia. La sua espressione di eterna apatia e sofferenza, tra l'altro, sembra trovare ben pochi sprazzi di serenità. Infatti la verità verrà a galla molto presto. Shiori vive in una condizione di profonda indigenza. La madre la sottopone con frequenza allucinante ad episodi di abusi e di violenza, portando la ragazza prima a prostituirsi e poi a scappare di casa, cercando la compagnia di chiunque la possa ospitare, fondamentalmente in cambio di prestazioni sessuali, spesso al limite della perversione che sfoceranno anche in episodi dai risvolti potenzialmente tragici. Yamada non riesce a darsi pace, peraltro. La giovane Shiori sembra quasi rappresentare per lui una seconda chance, una chance che il destino vuole dargli per ritrovare la serenità dell'ambiente familiare, per ritrovare quell'amore ormai svanito. E quindi si metterà sulle tracce della ragazza per approfondire il suo caso, arrivando a scoprire una verità tremenda che la porterà addirittura a voler prima ospitare la ragazza e poi quasi a volerla adottare. Ma i traumi in certi casi sono troppo profondi, perché immaginate un animale randaggio è abituato a vedere le minacce dietro ad ogni angolo e anche quando gli si tende la mano per offrire un aiuto o del cibo non è detto che questo sia pronto a riceverlo, potrebbe anche mordere. Il trauma della violenza si mischia a quello delle profonde ferite psicologiche di entrambi, assolutamente di entrambi i personaggi e il rapporto che si creerà tra i due diventerà il centrone valgico dell'intera narrazione. Anche se ci sarà spazio per atmosfere più misteri, quando ad un certo punto nella narrazione subentrerà anche un serial killer e non disegnando momenti di sottile dolcezza, delicatezza che davvero si sposano bene in un mix perfettamente riuscito. Una narrazione, dicevo, straordinariamente umana, adulta, matura, ma capace di una sensibilità e di un'attenzione davvero straordinarie. Diciamocelo subito, Rondaggi emotivamente è una coltellata al fegato e io dopo titoli come 17 anni o My Broke Mariko, giusto per restare in ambito J-pop manga pensavo anche di poterne fare a meno di certe atmosfere così intense e drammatiche ma la bravura di Keigo Shingo in questo caso sta nel portare a galla tutta questa intensità coniugando delle atmosfere molto diverse tra loro e dei topoi narrativi diversi ma che si sposano in maniera elegante e anche dosate in maniera sapiente. Da tempo non rimanevo così arrapito da un'opera del genere ben disegnata peraltro senza tuttavia raggiungere particolari picchi di rilievo ma funzionalmente diciamo allo scorrere dei quattro volumi, quindi perfetti per lo scopo. Rondaggi è un'opera che indaga i traumi umani e la possibilità di rinascere sempre anche dopo aver toccato il fondo, questo è molto importante ma è anche una decisa denuncia sociale verso le contraddizioni di una società, quella giapponese che è sempre un po' difficile da capire per noi, che abbiamo un po' una docazione molto diversa da quella giapponese. È un paese in cui formalmente la prostituzione minorile è assolutamente condannata ma è ancora inquietantemente super diffusa. È un paese dove una ragazza abusata e a rischio di suicidio potrebbe essere meno importante per i servizi sociali di altri casi perché vista l'età potrebbe addirittura essere considerata quasi irrecuperabile. Pensate alla follia. È una società che parlando di ambiti più di vita comune non accetta il fallimento, l'errore dove il peso delle scelte sbagliate, che ne so, una bocciatura a scuola, qualche risultato non totalmente soddisfacente al lavoro partono delle conseguenze a volte assurdamente terribili e vanno ad alzare il tasso di suicidi in tutto il paese generando fenomeni che poi ben conosciamo come gli ikikomori e altre deviazioni sociali. Addirittura nel centro massaggi che vediamo all'inizio del manga le ragazze si vestono ancora in quella maniera un po' alla scolaretta attirando un certo tipo di clientela e il tutto porta a galla un po' quell'immaginario estetico abbastanza tipico che conosciamo e soprattutto oggi alla mia età fa decisamente tremare i polsi. Randaggi comunque è un'opera bellissima. Vi consiglio caldamente di leggerlo. specie tutto d'un fiato per apprezzare l'evoluzione e anche il grande contenuto. Ottima l'edizione DJ Pop, 4 volumi racchiusi nel collection box e con un prezzo assolutamente in linea un po' con le produzioni attuali. Bello bello bello, manga che fa riflettere, è un fumetto che sicuramente può regalare non solo delle emozioni ma anche qualche insegnamento e la cosa è assolutamente molto importante. Quindi molto bene. Se il manga vi è piaciuto, se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Se volete supportare il nostro lavoro basta un like, basta una ricondivisione e noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale. Ciao da Zet!